Ben ritrovati amici, riparte una nuova stagione di Silicio ed è una stagione che riparte molto bene perché ho letto proprio ieri un dato dell'Istat, la vendita dei robot industriali nel mercato italiano sta facendo più 28%, è un indicatore fra i tanti che anche in Italia l'economia 4.0 sta diventando una realtà e noi dobbiamo crederci. Reteconomy, la nuova visione dell'economia